E' indubbiamente un brutto periodo quello che sta attraversando il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi. Quest'ultimo, nella notte, a causa dello strozzamento di un'ernia inquinale di cui soffriva da tempo, è stato operato d'urgenza presso la clinica Sant'Anna di Agrigento. Ad eseguire il delicato intervento chirurgico, un'equip di medici diretta da Piero Luparello, tecnicamente riuscita l'operazione. Il convalescente presidente Dorsi dovrà asservare un periodo di riposo. Ai guai giudiziari si aggiungono quindi anche i problemi di salute. Ricordiamo che il capo della giunta provinciale prossimamente dovrà comparire al tribunale di Agrigento per il processo che lo vede accusato di truffa, peculato, concussione e abuso di ufficio.